il mio canale di youtube continua a crescere da 700 mila visualizzazioni in due mesi sono passato a 29 milioni 716 mila persone che hanno visto i miei video e da 1700 iscritti sempre in due mesi sono passato ad avere 41 mila 900 iscritti adesso anche lo storico alessandro orsini orsini giornalista mi ha scritto mi manda messaggi c'è un sacco di gente di vip di gente conosce in italia mi fa i complimenti per il canale ed è una bella soddisfazione dai